Presepe vivente di Gesualdo, 27 e 28 dicembre, nel centro storico di Gesualdo. L'allerta meteo sulla campania che durerà fino alla mezzanotte di oggi ha investito in pieno anche l'Irpinia. Pioggia, grandine e forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nel comune capoluogo e in provincia, costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi. Toccato ieri, in particolare, Avellino-Città spazzata via dal forte vento. Avviamo reglie e silvati, è caduto un albero che è stato prontamente tagliato per liberare il marciapiede e la strada. L'intervento dei caschi rossi, anche sul raccordo Avellino-Salerno, dove un grosso fusto si è abbattuto sulla carreggiata direzione Avellino all'altezza di Montoro. Un bello spavento per gli automobilisti, l'albero è stato prontamente spostato, evitando così pericoli e disagi alla circolazione. Notte di passione dunque, quella appena trascorsa per i rivigili del fuoco di Avellino. Sono stati circa 30 agli interventi, tantissime cadute di rami e alberi in due casi su autovetture in sosta, come nel caso di Via Palatucci e Via L'Italia ad Avellino. Continua ancora ora il lavoro della squadra del comando di via Zigarelli per far fronte a tutte le richieste che giungono in sala operativa. Il maltempo rischia di fare danni anche al pala del Mauro, prima della gara di Serie A tra la scandone Capodorlando. Il vento forte è penetrato ieri in uno spilaglio. La porta di emergenza si è spalancata, andando a sbattere contro uno stipite, trascinando con sé una porzione di muro. Una fila di mattoni e calcinacci ha praticamente raggiunto le spalle dell'ultima fila dei sedili della Curva Sud, nel settore più alto della Gradinata. Mancavano tre quarti d'ora all'inizio della partita, il palazzetto si stava riempiendo, ma il suono sordo della porta di velta ha creato un bel po' di panico all'interno della struttura. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito, la zona situata in alto a destra rispetto alla Curva Sud, tra il settore della Curva e Distintia ed accende la tribuna a Montevergine, è stata transennata dai vigili del fuoco. Il maltempo comunque dovrebbe dare una tregua per il weekend che porterà l'anno nuovo, iniziando già da domani, venerdì 29 dicembre. Grazie a tutti.